Nulla a che vedere con quello precedente, il parcheggio di via del risorgimento a Fano finalmente vede il termine dei lavori. L'opera, dal costo di 600 mila euro, verrà aperta agli automobilisti a partire dalla prossima settimana, dove si terrà una breve inaugurazione per poi posteggiare in totale sicurezza e ordine le autovetture e anche i motocicli. Stiamo per riconsegnare alla città il parcheggio di via risorgimento, un'infrastruttura molto importante d'attesa che ha avuto qualche ritardo, ma ci siamo davvero, torniamo a dare alla città 88 parcheggi in forma ordinata con una pavimentazione adeguata, autobloccante, perché ricordiamo che quel parcheggio era posto ed è posto tuttora in una conca e quindi aveva diversi problemi idraulici. Con questa pavimentazione particolare tutta l'acqua ristagnerà all'interno del terreno, anzi e favorirà anche tutto quello che è una falda acquifera, che ahimè anche con questi problemi contemporanei ambientali sicuramente porterà un vantaggio. Dopodiché abbiamo previsto, in questi giorni stanno ultimando quello che è il collaudo luminoso, di 21 nuovi punti luce che verranno messi a disposizione proprio per migliorare la visibilità dell'aria e quindi anche la sicurezza. È prevista anche una piccola area di sosta con delle panchine che sono già state messe a disposizione e mancheranno, diciamo, nell'ultima parte, pur inaugurandole, le due rampe che invece daranno collegamento ai passeggi. Quelle arriveranno da qui a 15 giorni, però entro la prossima settimana diciamo che i lavori saranno terminati e siamo ben lieti e contenti di dare un posto accessibile, perché ricordiamo che c'è stato un abbattimento completo di tutte le barriere architettoniche e quindi tutte le persone con disabilità potranno fruirne in tutti i suoi spazi. Verde, perché viene messo a disposizione tutto un nuovo apparato radicale con 32 nuove piante e del verde, quindi di cespugliature limitrofe, è sicuramente sicuro perché con tutta questa illuminazione e questa sosta regolamentata sicuramente le persone potranno sentirti più in sicurezza.